cari amici e fan italiani è giunto il momento ebbene sì dopo tanta bella musica seria e semiseria ho deciso oggi di cazzeggiare ebbene sì anche se non ho il cappellino giallo in testa poi capirete perché ma chi se ne frega grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.